Quanto tempo ci mette per fare una cosa del genere? Questo ci dovrebbe mettere una decina di minuti, un quarto d'ora. Comunque va in su, perché io l'ho vista che il pezzo scende giù. Invece questo va in su il macchinario? Sì, esiste appunto una serie di scuole di pensiero, per cui il piano si muove in una sola direzione e la destina si muove in due direzioni. Nell'asse X, diciamo, in altezza pure, e il piano passarsi e la destina resta ferma. Diciamo, diverse tipologie più costruttive. Quale sia la migliore e la peggiori? Si muove anche il piano, tra l'altro. Com'è? Si muove anche il piano. Sì, qui si muove il piano in una direzione, la destina nell'altra e la destina va, si alza verso l'altra. Sì. Mentre... Mentre...